ciao a tutti mi chiamo federica rossi e ho frequentato l'università di bologna la laurea magistrale in scienze tecnologie agrarie curriculum produzioni e biotecnologie vegetali se vi interessa approfondire gli aspetti di fisiologia di genetica e anche di qualità delle produzioni allora questo è il curriculum che più adatto a voi inoltre la presenza di diversi esami a scelta permette di orientare i nostri studi su ciò che più riteniamo importante ed inoltre di integrare trasversalmente anche esami di altri curriculum ciao a tutti sono giulia piavaccari laureando in scienze tecnologie agrarie all'università di bologna con curriculum medicina delle piante il corso è rivolto a tutti coloro che come me desiderano approfondire la tematica avversità delle piante su tutta la filiera agroalimentare dal campo al post raccolta e ciò avviene con specifiche materie di indirizzo quali ad esempio la patologia o la patologia dei prodotti post raccolta ed inoltre numerose materie scelta autonoma di noi studenti ci permettono di specializzarsi ulteriormente mi sono iscritta al corso per completare il mio percorso di formazione iniziato con la laurea triennale in economia marketing nel sistema agroindustriale perché ero interessata all'economia agraria lo consiglierei ai futuri studenti in quanto offre una conoscenza della materia agraria a 360 gradi dall'economia alla difesa delle piante e produzioni vegetali perché consiglieresti il corso l'università di bologna perché l'università di bologna offre scambi internazionali laboratori attività pratiche ti avvicina al mondo del lavoro grazie a tutti grazie a tutti